Questo articolo di Ilunga K Fitness ha riscontrato una valutazione di 8.8 su 10 totali. Al momento risulta essere il più regalato. I suoi pregi sono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Facile da montare. Robustezza. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Water Rower è di 9.8 voti su un totale di 10. In questa selezione risulta essere il migliore. Un giudizio mediamente positivo per un articolo dalle prestazioni più che soddisfacenti. Si rivela essere un'ottima soluzione. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Water Rower è di 8.6 su 10. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità. È un articolo capace di accontentare un po' tutte le tipologie di utenti. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Sport Plus ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.6 su un totale di 10 punti. Risulta al momento essere il più venduto. Le sue funzionalità sono. Facile da montare. Perelle allenamento. Ottimo rapporto qualità prezzo. Robustezza. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video.